2,6 milioni di finanziamenti per circa 5,5 milioni di euro di investimenti considerando anche la quota di compartecipazione degli enti per la realizzazione di progetti sull'asse innovazione settore terziario e servizi turismo commercio e servizi connessi. 12 comuni della provincia di Lucca, 7 della Valle, 1 della Piana e 4 della Versilia hanno ottenuto dalla regione toscana il via libera per accedere ai soldi necessari per la riqualificazione sviluppo realizzazione o completamento di strutture a scopo commerciale presenti sul territorio dei rispettivi comuni. I progetti ammessi a finanziamento sono stati scelti dalla provincia dopo aver aperto una fase di concertazione sul territorio sia per individuare le priorità sia per garantire una distribuzione geograficamente equa delle risorse. In caso di progetti che non dovessero andare in porto la graduatoria scorrerà permettendo di recuperarne alcuni tra quelli presenti sulla lista. Nello specifico per la Piana a beneficiare del contributo di 256.219 euro è il comune di Capannori per la riqualificazione del mercato di Marlia. Il progetto prevede la copertura completa della struttura che due giorni a settimana ospita il mercato ma anche alcune manifestazioni culturali di grande richiamo.